E' illegittimo il provvedimento di rigetto della domanda di regolarizzazione motivato sulla base dell'esistenza di una condanna a carico dello straniero, per il reato di cui è l'articolo 13,13 del Decreto Legislativo numero 286 del 1998. Nel caso di specie, la via della procedura di emersione da parte del datore di lavoro è anteriore alla pronuncia della condanna dello straniero per il reato in questione, per cui si deve considerare l'effetto sospensivo o addirittura estintivo di quel reato, legato alla presenza irregolare sul territorio da parte del lavoratore straniero. Tale previsione di sospensione dei procedimenti penali pendenti, aventi ad oggetto determinate violazioni relative all'immigrazione, in attesa della definizione della regolarizzazione amministrativa, comporta che lo straniero non può essere sottoposto al procedimento penale, pertanto, dal procedimento e eventuale condanna che ne segua, non possono costituire legittimi presupposti per negare la detta regolarizzazione. Grazie. 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 Grazie.